Musica Arriva il Carnevale edizione 2023, un'edizione primaverile e continua il nostro giro all'interno dei garage per conoscere le maestranze che partecipano a questa edizione della festa. Siamo ospiti della Nuova Arte 96 che al Carnevale 2023 porta il carro allegorico Regeneration, l'arca della salvezza. Alessandro Segreto, presidente della Nuova Arte 96, per voi quest'anno una nuova esperienza, quella del carro Regeneration, l'arca della salvezza. Di cosa parla questo carro? A intanto parliamo di un giovane Noè che dopo tutti gli eventi calamitosi e brutti che ci sono stati, questo Noè ritorna per darci un po' una lezione al male che si sta attorno. Cerca di salvare poi tutto il bene che c'è, la storia, la cultura, la museo, gli animali, quelle cose per bene insomma. Com'è stato per voi questo lungo periodo senza Carnevale? Un po' è mancato, ci è mancato tantissimo, anche se io negli ultimi anni sono andato anche fuori a città, d'altra parte mi sono trovato benissimo. Però quest'anno ci è venuto un po' faticoso per tanti motivi, tanti intoppi che molta gente sa, però ce l'abbiamo fatta. Mancano pochi giorni alla sfilata, è innegabile che da parte vostra c'è stanchezza? Sì, la stanchezza sì, ma soprattutto lo stesso è mentale, perché è un Carnevale della confusione, purtroppo sia per l'uno che per l'altro. Non doveva andare così, deve essere un Carnevale di ripartenza, invece purtroppo è ripartito un po' sballottato questo Carnevale. Però si deve cercare di migliorare e risolvere tutti i problemi possibili. La location della perriera vi preoccupa dal punto di vista meteorologico? Meteorologico se c'è vento sì, qua il problema è il vento. In passato abbiamo fatto, magari nella via percentuale della perriera, che era già un po' più coperta, i carri erano anche più coperti. Qua siamo completamente esposti, è come se dovevamo montare le terme, il problema era sempre quello. Qua siamo da tutti i lati esposti al vento e giustamente un po' di rischio c'è. Anche per le gru, quando devono alzare i pezzi, è un bel problema. Alessandro, la vostra quest'anno è una squadra rinnovata, ci sono tanti elementi e in questi mesi qui c'è stata veramente tantissima festa, tante persone che hanno partecipato. Per voi è questa la parte più bella del Carnevale? Io ho avuto sempre una squadra forte di ragazzi, quest'anno si è incrementata di più, abbiamo fatto i nuovi innesti, persone di grande valore. Sicuramente se ci sarà un futuro ne porteremo altri di grande valore. È una squadra di vecchio stampo, dove ci sono ragazzi, famiglie, bambini, ci divertiamo, ci diamo l'anima tutti insieme per il carro. È una cosa bellissima, forse siamo ancora gli unici di quell'epoca che vivono al Carnevale dentro il carro con le famiglie, con tutti. L'augurio per questo Carnevale? Ma che si superano tutti questi ostacoli e finisce in un modo sereno, tranquillo, perché giustamente noi siamo tutti un po' stanchi ormai, tutte queste vicende ci hanno un po' affaticato a tutti. Speriamo che chi ci accompagna a questo Carnevale sia comprensibile soprattutto, anche nei problemi, perché quest'anno è il Carnevale delle sorprese purtroppo. Speriamo che finisci alla grande. I carri saranno sicuramente belli. Noi cerchiamo di portare, anzi portiamo un carro innovativo e poi la gente dovrebbe dire se è bello o no, però siamo soddisfatti. Giovanni Giglio, autore copionista del copione di questo carro allegorico, allora magari già sarete sicuramente pronti ormai con la messa in scena, ma di cosa parlerete in questo copione? Siamo pronti, siamo pronti a salpare con quest'arca verso il palco di Piazzale Allende, insomma. Lo faremo con un Noè che è pronto ad eseguire gli ordini di Dio, diciamo, in merita ad un secondo diluvio universale ordinato appunto dal cielo, da questo Dio che ci ha insegnato l'inutilità della cattiveria, dei pregiudizi, della violenza e qui l'umanità sembra invece non seguire questi dettami. Quindi un Noè 2.0 che si scontra con la modernità, con un mondo fatto in cui dilaga appunto la guerra, in cui dilagano insomma numerosi aspetti negativi, ma questo Noè, diciamo, vorrà salpare con quest'arca evidenziando invece quelli che sono gli aspetti positivi della nostra terra e quindi cercherà di salvare in mezzo a mille peripezie caratterizzate anche che saranno sicuramente segnate da una verve comica, magistralmente interpretata dai nostri attori che mi va di ringraziare, diciamo, abbiamo Vincenzo Cirafisi, Tiziana Marino, Calogero Cirafisi, e ancora Giulia Milanese e Ludovica Piazza e appunto tra queste mille peripezie cercherà di salvare insomma tutto quello che c'è di buono appunto e che ci appartiene. Quindi cercherà di salvare le tradizioni, l'arte, la cultura, la musica ma anche un po' il carnevale, ecco, alla luce anche delle ultime notizie di quello che sta avvenendo in città. E inviterà soprattutto il popolo a non ripetere la storia dei Luna e dei Perollo perché vedremo sicuramente una versione molto più pacifica su quel palco in cui tutti verremo chiamati ecco all'Unione alla Forza che è poi quella che dovrebbe essere l'ingrediente fondamentale per affrontare soprattutto questa edizione del carnevale che è un po' una special edition, chiamiamola così insomma. Ecco, sui social hai fatto bene a fare riferimento il Luna e Perollo, sui social in questi giorni sono tantissimi detrattori della festa soprattutto in un contesto quale quello della Perriera che alcuni anni fa non ha per niente funzionato ma rispetto al carnevale cosa ti senti di dire? Qual è il messaggio da lanciare alla città, alla partecipazione? Non mi sento di dire nulla, non mi sento di commentare, è sicuramente un esperimento, un nuovo esperimento perché cambia il circuito, cambia la prospettiva quindi aspettiamo, vediamo come andrà, sicuramente il carnevale nasce all'interno delle mura del centro storico che lo racconta in cui il carnevale un po' si autoracconta ma purtroppo come sappiamo ormai le restrizioni dobbiamo anche subirle in un certo senso e quindi proveremo a ristrutturare questa festa alla luce di una visione secondo me che deve essere appunto pacifica serve tanta unione, serve tanta forza, cerchiamo di ripristinare quella che è la magia quelli che sono i colori, l'allegria del carnevale e riportarla diciamo in un luogo che potrebbe non essere diciamo funzionale ma io credo che la nostra forza, la nostra energia possa rendere tutto ciò un po' più magico Fabio Marciante, un ritorno della Nuova Arte 96 in questa associazione che quest'anno presenta un progetto molto importante cosa avete realizzato? Curi la modellazione insieme a Michele Giacalone e cosa avete realizzato per questo carro? Questo carro strutturalmente è un po' diverso perché abbiamo Noè anziché essere lui sopra l'arca è al contrario cioè che Noè porta sulle spalle l'arca alla salvezza quindi è una tipologia di impostazione un pochettino diversa e ovviamente mentre lui lotta contro le tempeste di pioggia, contro il mare, insomma qualcosa di particolare Ecco tempeste che in questi giorni sono quanto più attuali, qual è la responsabilità di costruire un carro soprattutto adesso rispetto a tutto quello che riguarda la sicurezza? Per voi cosa significa? Solitamente qualsiasi carro ha una propria sicurezza, noi ci mettiamo l'anima e il cuore in tutto e anche su termini di sicurezza, grazie a Dio non è mai successo niente riguardante il carro e purtroppo altre cose possono capitare strutturalmente noi quest'anno abbiamo tutte le strutture nuove abbiamo avuto vari problemi all'inizio di locali che le vecchie strutture non c'erano ancora disponibili abbiamo preferito di farle tutte nuove e anche per questo abbiamo un'impostazione un pochettino diversa quindi come sicurezza siamo ancora più sicuri Fabio Marciante quanti carnevali all'attivo hai? Quanti carri allegorici ma anche minicarri? Sono tanti anche perché sono cresciuto con la Novart 96, nel 96 quindi è un'associazione in cui io ce l'ho al cuore da piccolino e quindi è dal 96 che o improprio o aiutando gli altri partecipo al carnevale Mi permetto di chiederti, questa edizione molti carristi hanno sollevato hanno fatto questa riflessione rispetto ai figli alcuni per la prima volta vedono il carnevale, non l'hanno mai conosciuto e molti hanno voluto, ci tenevano particolarmente a tornare proprio per questa ragione per far vedere ai bambini cos'è il carnevale, immagino che sia anche il tuo caso Eh sì, io avendo un bambino di due anni non conosce proprio minimamente il carnevale quindi anche per lui è una cosa nuova e posso dire che già piace quindi ho appreso qualcosina da me e anche dalla mamma, che la mamma era pure nei gruppi Michele Giacalone, allora a te chiedo rispetto a questo carnevale a maggio, qual è l'impressione? Spero per come si doveva prospettare, vedevo un carnevale, oltre ai problemi che ci sono il trasferimento dal centro alla perriera, vedevo un carnevale un pochettino in maniera, dopo tre anni fermi, lo vedevo un pochettino, un carnevale più elevato però in base a questa problematica che c'è stato nel trasferimento vediamo cosa succede alla perriera, però io sempre come da carrista io lo vedo un carnevale che esce bella la perriera Ecco, rispetto alle strutture, vi dispiace un po' aver realizzato delle strutture che erano idonee per il centro storico e che qui magari potrebbero perdere? Sì, questo è un problema che già in questi giorni ne abbiamo parlato però come siamo noi sono anche gli altri, ci adeguiamo alle nostre situazioni purtroppo, poi se il prossimo anno ritornerà di nuovo alla perriera che ormai per me è il carnevale, possiamo dirlo, che si farà alla perriera ci prepariamo per un altro carro in base al percorso che abbiamo Cosa ti piace di più di questo carro quest'anno? C'è un pezzo a cui sei più affezionato, che hai modellato? La prima cosa che mi piace, oltre alla modellazione, è la compagnia un'associazione che io, dopo tanti anni, che voglio anche salutare effettivamente Alessandro Venezia, però ora quest'anno sono ritornato qua con questa associazione grazie a questo mio collega Fabio Marciante e mi trovo bene, come pezzo principale che mi piace non posso dirlo, perché però c'è un pezzo che si trova dietro alle nostre spalle non ho niente da nascondermi, però è un pezzo che noi vogliamo che è una sorpresa che esce per il carnevale Ricordiamo anche i decoratori I decoratori, li salutiamo anche Vincenzo Crapanzano e Giovanni Muscarniera sono stati dei grandi decoratori fino all'ultimo Io sono orgoglioso di avere un artista come Vincenzo Crapanzano e Giovanni, ovviamente, che ci hanno dato stimoli in più per fare un buon prodotto questo si vede quando una persona è preparata, è un artista, in tutti i 360 gradi poi volevo fare un ringraziamento a chi ci aiuta, che è la cosa essenziale e sia sulla qualsiasi cosa noi principalmente ci ringraziamo a chi ci ha aiutato come noi a modellare a Francesco, Guardino, Vincenzo Ciancimino, Diego Crapano e Michele Sclafani spero che non mi dimentico nessuno devo fare dei ringraziamenti anche a loro perché sono stati veramente unici Calogero Baldassano alias? Raziano Lei dice che in questo modo non la conosce nessuno, diversamente col suo cognome Allora, carnevale sta arrivando, qui si stanno smontando praticamente le cucine lei è il responsabile ufficiale della cucina della Nuova Arte 96 cosa ha preparato quest'anno di buono? Ma di buono abbiamo preparato uno del tutto dal risolto, dalla pasta a forno, pizze, patata a forno, gambe rifritte un po' di tutto, l'ultima che ci manca che i ragazzi la vogliono fatta dobbiamo fare penne con tonno e limone cose di un certo livello esattamente io sono stata protagonista in una di queste sere ho partecipato e devo dire che la cosa più bella che si respira qui è l'aria di famiglia a voi cos'è mancato in questi anni senza il carnevale? Ci è mancato tanto perché noi siamo un gruppo di amici e parenti però siamo un gruppo di famiglia veramente pulita, vera, senza nessuna malizia il carnevale di una volta diciamo che noi quando prima eravamo i carnevali passati ci riuniamo e poi alla sera dopo che finivano di lavorare non c'è niente di mangiare perché i tempi erano scassi avevamo una bocca di salate ci battiamo, tocca la scappa le consavamo ogli al limone e passavamo una serata erano cose belle nel passato oggi come oggi è una cosa molto molto difficile a portare avanti una manifestazione del Genese è una grossa responsabilità Ecco, quanti carnevali ha l'attivo? Ricordati che io ho iniziato con il mondo di una Babilonia il mondo di una Babilonia e forse io non c'ero Accetto, nel 1974 è stato questo l'anno di ripresa perché quell'anno si sono fatti, mi sembrano cinque carri il mondo di una Babilonia il gatto con lo stivale sangue e petrolio i diogeni e papere e paparuna non c'era il peppe e nappa allora Ora invece è tornato quest'anno sarete in sei come lo vede questo carnevale a maggio? Siamo in cinque In cinque più il peppe e nappa Questo carnevale a maggio? Cosa ti devo dire bella mia è una cosa nuova bella anche pure è un prodotto che possiamo dare uno suguardo ai forestieri al futuro al turismo e che cosa ti devo dire? Furtroppo il tempo su un Gesù carrozzate un Gesù sante come fa chiovere se tu riesci chissà un'X cosa un chiove ma appena fai carrozzate stai attento che siamo tutti con l'acqua con le quadra no a costruire quattro gocce finito con le quadra io non avevo mai ricordato un tempo come questo nel nel 86 sì c'è stato un maltempo addirittura negarivo pure la neve ma non come quest'anno quest'anno è una cosa tremente tremente un'unica un'altra ci siamo chiedi io mi stai orando perché sento un rito perché fra tutte le altre cose lì c'è un buco puro di robe e questi ricoscene cosa ti devo dire? che sia una bella festa e in bocca al lupo per tutti che crepe grazie a tutti